Buongiorno, bene voi? Allora, intanto se ci dice oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di crescita, parliamo di piano di investimenti e di discussione su come veramente questi investimenti possono favorire la crescita in quali settori. Parliamo del grandissimo potenziale ancora in espresso nel mercato interno che è un elemento fondamentale di una politica di crescita europea. C'è molto da fare nel completamento del mercato interno, a partire dal completamento del mercato interno dei servizi e c'è molto da fare anche per quel continuo lavoro di semplificazione, di migliore legislazione più competitiva, direi. Cioè una legislazione che deve essere assolutamente semplificata a favore delle piccole e medie imprese e vogliamo vedere dei risultati ancora più forti nel miglioramento della valutazione di impatto. Quando Bruxelles legifera e decide bisogna avere molto chiara l'impatto reale che sull'economia questa legislazione ha e bisogna fare ancora molti passi in avanti su questo.